No, bisogna fare gol, bisogna fare gol, turno, chi capita, chi capita, bisogna essere un pochino più freddi perché queste partite così, oggi è una partita brutta, tantissima, l'episodio fa la differenza, siccome ci è capitato a noi l'episodio fa 1 ore potrebbe essere sfruttato un pochino meglio, ma noi diciamo che la squadra effettivamente tiene fuoco, tiene bocca, poi è normale che tutte le squadre prendono gol, però siamo una squadra che non è facile fargli gol, adesso faccio le corna, però siamo tosti, dobbiamo fare qualcosa in più, ho detto, cosa ci manca, qualche gol in più, in queste tre partite se ne analizziamo qualcosa in più potremmo fare, oggi si chiude il giorno d'andata, si chiude tutto e faremo un'analisi di quello che è accaduto, cosa ci manca, qualcosa ci manca perché quello che hai detto anche tu, forse è anche un'analisi giusta, adesso quando ci dobbiamo fermare un attimo, valutare e vedere dove la società e noi pensiamo che dobbiamo intervenire e poi vedere che cosa c'è sul mercato per cercare se c'è qualcosa di importante di essere bravo tempo.